bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi volevo solo informarvi per chi ancora non lo sapesse che c'è una mimetica completamente gratuita che potete ottenere su fortnite andiamo a vedere come si fa ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news allora ragazzi è davvero semplicissimo quello che dovete fare per prima cosa si apre il launcher di epic games ok andate su il vostro nome riscatta codice una volta che siete nella sezione dove riscattare il prodotto inserite questo codice a un 9 n j b l v h v t cl j s 54 y t b una volta inserita riscattate il vostro prodotto cliccando riscatta e la mimetica sarà vostra una cosa davvero semplicissima prendetela perché è un'esclusiva del fortnite mers ragazzi di twitch non me ne sto andando sto solo mandando l'altro ringrazio tutti per aver guardato questo video noi momento momento c'è un problema c'è un problema con il video aspetta c'è un problema con la chiusura del video tua mamma tua mamma tua mamma tua mamma quella mamma non si vedeva tra l'altro nulla non si vedeva ci vediamo alla prossima proat ciao ciao ciao